Questa mattina sicuramente partiamo con una bella notizia, con una notizia sempre incentrata verso il futuro, come è anche normale che sia, perché certo la Juventus sta vivendo un presente importante, inteso come stagione 2023-2024, dove ancora tanto è da decidere e molto di questo è anche proprio oltre che alla portata nelle capacità della Juventus, però guardando il futuro ci può tranquillissimamente stare parlare di questa notizia che onestamente, così, in mezzo alla settimana è più che doveroso condividere in mattinata con voi. Notizia proveniente dalla Gazzetta dello Sport, in particolar modo da Fabiana della Valle, ma attenzione perché nel momento in cui si parla di Dusan Blauvic, se si smobilita la Della Valle, ecco, io sinceramente dell'affidamento voglio farcelo, perché banalmente è stata lei a parlare per prima di Dusan Blauvic alla Juventus, quando mancavano pochissimi giorni dalla fine del mercato, quando tutti quanti pensavano se figuriamoci se Dusan Blauvic arriva poi a cinque giorni dalla fine del mercato, è stata l'unica, o quantomeno è stata la prima a scriverlo e quando parla di Dusan Blauvic mi viene da pensare e soprattutto da sperare che abbia qualche contatto in più che la porti poi ad avere una certa attendibilità quando si parla di quel giocatore o del rapporto del giocatore con la Juventus. Questa è la mia semplice premessa iniziale dovuta soprattutto alle speranze perché la Della Valle, per quanto riguarda la situazione di Dusan Blauvic, ha parlato sì di una situazione che non è proprio semplicissima quando si parla di attuale contratto del giocatore, soprattutto vedendo quello che è lo stipendio, in quanto è uno stipendio a salire che attualmente è più o meno sui 10 milioni netti a stagione e che nel 2026 toccherà i 12 milioni. Uno stipendio a salire praticamente quasi al raddoppio vedendo quello che era lo stipendio del giocatore quando è arrivato a Torino appunto nell'inverno del 2021 e giustamente vuoi perché comunque la Juventus sta sempre più cercando l'abbattimento dei costi, l'abbattimento degli ammortamenti e perché allo stesso tempo evidentemente vede nel ragazzo le qualità per poter continuare assieme. Ecco, pare che tutto possa essere incanalato diciamo verso un rinnovo fino al 2028, quindi un ulteriore biennale che quindi questo darebbe modo alla Juventus di abbassare i costi dell'ammortamento del giocatore, allo stesso tempo blindarlo e ritrovarsi poi in una situazione di forza, tra virgolette, qualora dovesse arrivare un club pronto ad investire una cifra presumibilmente abbastanza importante per il cartellino del giocatore perché qualora poi no, ipotizziamo quest'estate si dovesse riprospettare un ipotetico scambio Vlaovic e Lukaku e caz, eh? Spero che dopo il fosso decisamente scampato nella passata estate vedendo quello che è il rendimento del giocatore alla Roma e il rendimento di Dusan Vlaovic alla Juventus basta, robe di questo genere, basta, stop, qualora poi ovviamente no, ti dovessero arrivare i 100 milioni, dopo lì sicuramente sono temi di tutt'altro genere e al momento non penso che la Juventus sia nella posizione di poter dire no, tutto sommato credo fortemente nel giocatore posso tranquillamente rifiutare una cifra di questo genere, questo purtroppo no. Secondo Fabiana della Valle, l'incontro che potrebbe anche risultare, se non definitivo, poco ci manca, dovrebbe accadere in primavera inoltrata quando si spera che la Juventus abbia già raggiunto degli obiettivi. Il primo su tutti una serissima ipoteca ai discorsi Champions League se non già matematici ben poco ci manca e già probabilmente nel mese di marzo si saprà un qualcosino in più da questo punto di vista, probabilmente no, anche i discorsi legati alla Coppa Italia che danno qualche milioncino in più, la Supercoppa qualche milioncino in più, il Mondiale per Club che lì non è qualche milioncino in più, lì sono più o meno 50 milioni ma purtroppo lì la Juventus ci può far poco, può semplicemente gufare il Napoli contro il Barcellona o qualora dovesse passare il Napoli nei quarti di finale sperando che il Napoli di fatto ne perda due su due, però anche quello immagino che sposti abbastanza l'ago della bilancia perché finché si parla di 4-5 milioni può essere un discorso, quando iniziano ad essere una cinquantina è normale che tutto quanto prenda una piega anche un pochettino differente come anche naturale che sia, però sembra che il giocatore voglia rimanere, non abbia nessun tipo di problema cercando uno stipendio superiore, probabilmente da quello che dice la della Valle si accontenterebbe più o meno di uno stipendio come quello che percepisce attualmente che comunque insomma si va dai 7 ai 10 milioni di euro sicuramente non uno stipendio che dici due spicci, no purtroppo non sono due spicci però allo stesso tempo la qualità si paga come si suol dire, quindi giustamente non puoi avere né la botte piena né la moglie ubriaca, vien da sé, soprattutto quando la Juventus avrà la possibilità nell'arco di questo periodo di potersi liberare anche di ingaggi pesanti, di ammortizzare altri ingaggi come ad esempio può essere quello di Daniele Rugani che dovrebbe passare da 3 milioni e mezzo a un milione e mezzo netti a stagione, comunque se fai il conto complessivo risparmiando ingaggi qua e là, un bel gruzzoletto lo vai a risparmiare, oltre a tutte le altre varie dinamiche di mercato che in questo momento ovviamente non possiamo sapere, molto dipenderà dal budget, dalle competizioni, dalle offerte che ti arriveranno e tutte le solite cose, ma appunto Vlaovic sembra già essere a posto a livello di club, pensa già di essere in un top club, anzi piacerebbe portare la Juventus a tornare ad alzare dei titoli che sicuramente non sarebbe poi una cosa così tanto schifosa, penso che nell'ultimo periodo abbia dimostrato un grandissimo attaccamento alla maglia, sia sul campo che anche nella passata stagione quando di fatto sono arrivati dei no per rimanere alla Juventus, qualora dovesse per l'ennesima volta andare incontro, tra virgolette, perché comunque si parla pur sempre di domande offerta, di rapporti di lavoro alla Juventus, facendole abbassare quello che è il costo dell'ammortamento annuale del cartellino del giocatore vedendo la cifra a cui è stato pagato dalla Fiorentina, sicuramente sarebbe una roba veramente buona, veramente, veramente molto buona. Se riesci ad avere un punto cardine in grado di saper trascinare tutti gli altri a livello di mentalità, a livello di gol, perché comunque molto passa anche da quelle che sono le sue prestazioni, da un paio di mesi quantomeno a mani basse, e se si parla ancora di una Juventus seconda e soprattutto grazie alle sue doppiette, ai suoi gol decisivi, ai suoi assist decisivi, è tutto quanto obiettivamente fa ben sperare. E spero, semplicemente appunto, che la Della Valle, nel momento in cui mi va a parlare in certi termini di Dusan Blaovic, quello che può essere il suo futuro con la Juventus, perché vuole rimanere alla Juventus, spero solamente di non prenderlo in posti ben poco gradevoli, via, diciamo semplicemente così, però. Sinceramente non mi sembra una brutta notizia e in questo momento di notizie di questo genere ne abbiamo seriamente bisogno. Voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine. Forza Juve!